salve di Anne ma che bella ciao questo è il catalogo delle streghe che ti dà i prodotti più inexpensive più costosi ai meglio prezzi credo non lo so sono Diane Greenweed che ti porta felicità felici di conoscerti sì ciao sono Ellie una strega apprendista ok ciò con cui ti devo aiutare oggi è oh ti stai registrando per la prima volta sì giusto per essere stato inconveniente per te non essere in grado di usare il catalogo delle streghe aspetta un minuto ok grazie per aver aspettato quindi ho bisogno di vedere la master witch noi siamo in questa casa abusivamente non c'è nessuna master witch the master witch the master witch ah ha bisogno della firma di questa master witch si è ascoltata che doveva registrarsi vabbè la master witch non è qui signorina stai parlando attraverso quel cappello? yes mi sta dicendo parole ok allora sì a quanto pare gli abbiamo fatto credere che la master witch è da un'altra parte ma sta parlando attraverso il cappello e quindi ci sta dando il permesso a noi di far la firma e riceveremo anche un regalo una scopa ok fammi filmare ok spiegami vabbè tutorial facciamo spiegare ok ogni mattina qualcuno verrà per lei per le 8 di mattina fino alle 6 di sera posso comprare ciò di cui ho bisogno in quel lasso di tempo accettano solo luna coins e che cos'è? è la moneta utilizzata nella società delle streghe come l'iguo di annos di luna coins ok a quanto pare posso vendere pozioni c'è anche la insomma la consigna il servizio di consigna di pozioni speciali e ogni giorno della settimana comprano pozioni ad un prezzo più alto posso scegliere una nella lista e vi ho consegnato in due giorni non ho ben capito poi imparerò facendo una scopa si non è molto facilmente è un po' bizzarra da usare ma è bello ok però io vorrei vedere tipo cosa hai nel negozio ok fammi vedere il catalogo io ho 6 di queste monetine beh questo posso comprare subito compriamo sì grazie mille compriamo un retino ok io queste bestiole sì le avevo già scritte là però intanto ognuno allora vedo che è sulla scopa non posso usarla qui la scopa è un simbolo rosso che cosa sarà ciao carissima ho dormito bene certo che ho dormito bene ho riflettuto ieri ancora non è sicura ma la gente eh dici che vogliono tornare indietro giusto non so perché tu sia più confidente di me visto che ho vissuto qui tutta la mia vita anche così ho deciso di credere in questo pensiero felice davvero se ti liberi dei rovi proverò a contattare i residenti che che vivevano in quella casa ma se quel residente rifiuta non ti preoccupare perché non succederà Ellie sei così carina andrà tutto bene non ti preoccupare sì sì immagino di sì quindi che dovremmo invitare per primo c'era un carpentiere nel villaggio per caso perché credo che la prima cosa di cui abbiamo bisogno è un carpentiere per insomma per sistemare le case rotte ovviamente questa qui che mi indica era di Kyla che era il carpentiere quindi è meglio togliere i rovi dalla casa di Kyla per prima sì sarebbe meglio così se togli i rovi contatterò Kyla lasci a fare a me ok mi stai facendo un favore va bene iniziamo cosa mi dici virgine tieni in mente che non abbiamo informazioni e ne abbiamo una fenice la prima cosa di cui dobbiamo fare è raccogliere informazioni controlliamo intorno alla casa di Kyla per vedere insomma pensiamo alla fenice più cavi questa casa è nella stessa condizione di tutti gli altri scusate se non togli via i rovi non ha senso ricostruire la casa ora che sappiamo dov'è vediamo gli altri le altre informazioni insomma ok io non credo che la vecchietta mi possa aiutare credo mi abbia già detto tutto quello che poteva quando è apparsa ho provato del mio meglio per togliere gli astirovi ho provato un'ascia è anche provato dalle foco ma è stato inutile e se riusciva a ferire i rovi moriva facilmente e assomiglia ai rovi bianchi dice giusto però i rovi bianchi scomparivano completamente quando c'era una luna piena mentre questi rovi no sono forti tanto quanto i rovi bianchi ma scompaiono alla luce della luna strano e l'abbiamo pensato a noi insomma è la provvidenza nella natura anche se ci sono insomma se ha dei punti così forti ci devono per forza essere anche dei punti deboli questo è tutto ciò che so ok andiamo mi è stato detto che c'è uno zio qui da qualche parte no toc toc oh zio ehi sei una strega sì sono ellie una strega apprendista ciao lui arden un drago e un cuoco hai aiutato rubrum sei stato gentile ah non menzionarlo sarai qui credo di sì perché mi stai guardando in questa maniera ah scusami è la prima volta che vedo un drago con i miei occhi di norma non ne vedete questi uno anche la mamma ha detto che non ha incontrato un drago ecco perché non ero sicuro ma tu sei un vero drago non avrei mai creduto di incontrare un chef drago in un posto come questo visto che i draghi non hanno ragione di mescolarsi gli umani va bene mi sta dando qualcosa per aver aiutato rubrum oh grazie ok chiediamogli lui sente la malizia emanare dei rubri mi dice di controllare la casa della strega non so perché e ha perso una borsa che conteneva un ingrediente importante e l'ho perso da qualche parte vicino all'acqua per piacere prova a trovarla per me va bene ok ah ma l'ha perso nel villaggio nel villaggio vicino dell'acqua vabbè ma è una stronzata è qui ok ma rubrum è da qualche parte rubrum che magari magari mi sa dire qualcosa sui rubri che ragazzo sta ciao caro ciao ma intanto parliamo con te e intanto ti parlo di questo dei rubri mi sa dire un cazzo di niente va bene allora fammi vedere cosa hai nel negozio a libri non so se ci servono libri 150 ok poi per espandere lei espande anche la borsa ok 180 gold coins no un go sky cara e per vendere pozioni ok anche lei possiamo vendere pozioni eh ma perché questa no forse solo alcune forse solo alcune pozioni ok quindi a lei vendo per i soldi quelli dorati no e a st'altra del catalogo per i soldi azzurrini ok e rubrum dove cazzo è andato rubrum mi mancherebbe lui con cui parlare non so quanto possa essere d'aiuto il bimbo ma immagino che sia meglio di niente che casino aspetta rubrum dove sta cazzo eri oh è lì vuoi unirti a me rubrum nella sua dolcezza da bambino mi sta dicendo che i rovi non sono buoni sono amari sono anche speziacce beccano e non hanno gusto e sono tipo da freschino da pesce l'hai assaggiato? sì oddio l'ha assaggiato facendone un tè ha tolto solo le spine le ha fatte essiccare e le ha arrostite oh mi sta dicendo si è appena ricordato che aveva un gusto simile a quella cosa e aveva un gusto simile anche ai rovi bianchi e ai little honey pumpkin nella foresta ok proviamo a fare l'assunto di quello abbiamo sentito allora ha caratteristiche simili ai rovi bianchi rubrum dice che ha il gusto come quello dei little honey pumpkin pumpkin è anche probabilmente simile ai little honey pumpkin e il cuoco dice che secondo lui è causato dalla malizia di qualcuno ok come Arden ci ha suggerito andiamo a controllare a casa nostra se troviamo qualcosa nei libri cerchiamo cerchiamo i libri qua cerchiamo i libri qua cerchiamo i libri ha ha trovato metodo per combinare le caratteristiche delle piante quindi i rovi del villaggio sono stati creati utilizzando questa maniera sono stati combinati quindi sembra una combinazione dei little honey pumpkin e dei rovi bianchi e perché questo libro è qui la malizia di qualcuno ma ovviamente questo libro non è cioè lo trovi in giro è un libro che ogni strega interessata alle piante dovrebbe avere corretto è giusto una possibilità c'è la possibilità che la strega che abitava qui prima di noi abbia causato tutto ok c'è una parte che muove i rovi dice di guardare di nuovo attraverso la casa di Kailan ma non ora perché è un po' tardi il nostro giro arrosto ora guarda qui ha sicuramente la forma di del rovo bianco però colorato come il Little Honey Pumpkin quindi questo vuol dire che la gente non è riuscita a eliminare sta roba perché perché non puoi eliminare sta roba finché non elimini il cuore proprio come il Little Honey Pumpkin quindi prima dobbiamo eliminare il cuore quindi visto che è una pianta il rovo e il cuore devono essere connessi in qualche modo guarda lì lì dove il rovo è connesso con il fuori del villaggio quindi se lo seguiamo possiamo trovare il cuore ok andiamo a trovare il cuore ok ma come come elimini il nucleo il potere della luna dovrebbe indebolire il cuore visto che è come i grovi bianchi è di nuovo l'olio lunare e quindi dove intenzione di prendere la piuma di Fenice beh abbiamo un fiore lunare però effettivamente la piuma di Fenice è un problema andiamo a comprare semplicemente un biglietto del treno di nuovo e non ho così tanti soldi che cosa facciamo lo venderà Diane se lo ha lo vendono a un prezzo alto mi chiedo se c'è una pozione con il potere della luna tra le altre pozioni eh parlando di luna hai preso su una nota la scorsa volta non è vero? oh giusto la nota scritta nell'antica lingua ora che ci penso sembrava una ricetta e che ne dici di decifrarla? buona idea decifiamola ok Diana non lo saprebbe non me ok quindi devo prendere la ricetta ah no devo chiedere a Diana eeeh blim 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 come decifrare ok allora andiamo carissima moon something something la luna qualcosa qualcosa puoi leggere cosa c'è scritto su questa nota una nota mi dà un'occhiata mmm è la lingua antica puoi leggerla? ricordo di averla imparata quando andavo a scuola vedi sei l'unica che si è addormentato in classe e cosa dice? mmm luna luna una 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 posso leggere solo questo cosa? ho dimenticato tutto perché è da un po' che l'ho imparata e non l'ho più usata oh questo è perché Diane si è graduata molto tempo fa qual è la tua scusa? e non è nemmeno da così tanto tempo che mi sono graduata e c'è un modo per decifrare questa questa roba ovvio che c'è un modo davvero? è una cosa che impari a scuola quindi ci deve essere della conoscenza nella testa di Ellie quindi non è una questione di conoscenza ma di intelligenza che la porta fuori ecco perché consiglia la pozione sta enhanced intellect potion aumenta il tuo livello di intelligenza come memoria deduzione e lingua decifrare il linguaggio antico delle streghe sarà più facile in questa maniera però meglio non usarlo a lungo termine invece vende la ricetta non ho soldi però intanto fammi vedere il costo 10 ok allora qui farò off screen il guadagnare soldi e nel frattempo seguiamo l'altra missione cioè fammi andare qui ok quindi ci dice di seguire sta roba quindi seguiamo le radici qui e Ehi. Porca. Vabbè. Seguiamo le radici. Parca di. Vabbè dai, non ho tempo. Seguiamo le radici. Ok, vanno fino a lì sopra. Ma non si può andare lì sopra. Ok, ci deve essere un modo per andare. Ok, dobbiamo trovare qualcosa per far crescere questa. Un modo per farla crescere. Eccolo qui. Buon appetito comunque. Mi sta descrivendo le piante di cui ho bisogno di sapere. Quindi vuol dire che sa. Con buona nutrizione possono crescere il muovo. Cerchiamo l'enciclopedia. Ed è il catalogo delle streghe. Ecco, nutrition potion. Ok, mi pare di averla vista anche... Ok, quindi io ho... Due ricette di pozioni. Che devo comprare. Può dire che adesso... Per non rompermi... Non rompere a voi il cazzo... E... Devo guadagnare soldi. E mi sa che lo farò off-screen. Rapparino. Aniala. Inizia. Inizia. Glorza. Un. Inizia. Un. Vicente. Un. 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 Un.